Credo che sia una di quelle eccezionalità, di quelle rarità generate da personalità singole straordinarie come quella di Tino Caspanello che riescono ancora più eccezionalmente a creare un senso di comunità e di unione, non solo fra artisti ma fra persone che pensano con una linea comune. L'eccezionalità di questo evento è quello di riuscire a fare un lavoro sulla creatività basato sull'idea di ritrovare una sintesi tra le persone, i concetti, i momenti creativi. Quindi credo che sia una sorta di avamposto, una sorta di forma di resistenza necessaria al futuro. Emozioni esclusivamente positive, entusiastiche. Ti dà la percezione che c'è una possibilità, uno spaccato di vita al di fuori della aridità che solitamente si respira e quindi la sensazione di sentire qualcosa di diverso, di positivo che nella normalità di vita al di fuori della comunità.